Buongiorno e bentrovati a mattino 6. A lei oggi venerdì 29 aprile si venera Santa Caterina. Caterina nacque a Siena nel 1347, ultima di una numerosa famiglia composta da 25 figli. Assieme a lei nacque una sorella gemella battezzata col nome di Giovanna che morì a poche settimane di vita. Quando Caterina raggiunse l'età di 12 anni i genitori iniziarono varie trattative per concludere un matrimonio vantaggioso per la figlia. All'inizio Caterina sembrò accondiscendere ma poi pentitasi dichiarò espressamente che si era votata al Signore e che non intendeva ritirare la parola data. Caterina da Siena riteneva che assistere gli ammalati e i poveri che impersonavano Cristo sofferente fosse il modo per trovare il Signore. Sono ricordati diversi episodi di carità verso i poveri come dei vestiti dati ai più bisognosi o un mantello donato a un povero pellegrino e verso gli infermi. Uno dei miracoli riconosciuti dalla Chiesa Cattolica risale all'ottobre del 1376 quando il ritorno dalla corte papale passò a Varazze, località del Savonese, curiosa di conoscere i luoghi che avevano dato i Natali al beato Jacopo da Varagine. Caterina ebbe però una spiacevole sorpresa. La cittadina si presentava marridotta e abbandonata a causa della peste che aveva decimato la popolazione. Caterina pregò intensamente per gli abitanti di Varazze affinché finisse il loro dolore e i cittadini furono liberati dal flaggello. In ricordo di quell'episodio miracoloso Varazze resse la Santa di Siena a propria patrona dedicandole ogni anno il 30 aprile una delle processioni di Cristi più famose d'Italia seguita da un corteo storico che ne ripercorre le gesta. Santa Caterina è stata proclamata patrona d'Italia da Papa Pio XII assieme a San Francesco d'Assisi. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con i quotidiani per vedere le notizie nazionali e dal mondo con avvenire in apertura una grande alleanza contro la corruzione. Mattarella chiama al riscatto le forze sociali sane. Per il capo dello Stato sono più gravi le ruberie dei politici ma va evitato un conflitto che generi sfiducia. In centropagina la fotonotizia ha colpito ad Aleppo anche l'ospedale e l'ultimo di pediatria. Ancora i iadisti di casa nostra progettavano attentati. Passiamo al Corriere della Sera. Berlusconi cambia e sta con Marchini. La rottura a destra. L'imprenditore ha scelto la società civile. E in centropagina appunto il raid sull'ospedale in Siria. La fotonotizia ha ucciso l'ultimo pediatra di Aleppo. Ancora vediamo in breve colpisci la città dei crociati l'ordine ai terroristi di Lecco nel Mirino. Il Vaticano e l'ambasciata israeliana. L'ex premier che dichiara la dignità non a prezzo ed ancora all'analisi una nemesi antipopulisti. Ed ora passiamo al fatto quotidiano. Vediamo in alto scuola il caos finale al concorsone per i prof. La rivolta dei sindacati sciopero generale sulla riforma. Ancora Volkswagen, Dieselgate e i giudici tedeschi fanno muro. Niente informazioni ai colleghi europei. Inciuci in centropagina. Bisceglie Marchini aiuta il PD. Nuovo Nazareno Renzi Verdini. Colpo del Caimano. A Roma ritira Bertolaso per bloccare Meloni e Movimento 5 Stelle. E poi il referendum al comitato per il sì. Non si trova il presidente amato. Si allinea alla riforma. Il pugno duro dell'Austria. Noi del Brennero. Toccateci tutto ma non i nostri affari. Salvini, Trump e tir bloccati. Cretinismi senza frontiere. I giustizieri con l'accesso di zero nel taglio basso. Regeni a casa nostra. Storie di diritti e no. Ed ancora il giornale che apre con la retata dei iadisti. Colpiamo i pellegrini a Roma. I kamikaze sono già tra noi. Sei arresti. Pianificavano attentati al giubileo. E minacciavano il giornale. Austria il muro resta ma Alfano canta vittoria. Ed ancora in centropagina RAI. Ecco la lista dei nuovi dirigenti. Campo dall'orto si è portato in Viale Mazzini. Gli amici di MTV è la 7. In 8 mesi 19 assunti strapagati. E la proposta in Baviera. La Germania vuole studiare il Main Cup a scuola. Nel taglio basso vediamo il concorsone dei professori. Da bocciare. Rito anacronistico e improduttivo. Vediamo le notizie in breve. La radice del male. Morire di Islam. Ci siamo già a suoi fatti all'idea. E poi l'iniziativa. La fontana di Trevi si tinge di rosso per le vittime cristiane. Libero smantellata cellula dell'Isis in Lombardia. Pagavano i kamikaze. Sei arresti. Tra loro una coppia con due figli piccoli. Che godeva di 1000 euro al mese di sussidio. Bollette pagate. Casa popolare gratis. E il campione di kickboxing. Che combatteva con la maglietta del Daesh. Direttamente dal califato. L'ordine di colpire Vaticano. E ambasciata israeliana a Roma. In centropagina la vignetta. L'ultimo predellino di Silvio. Si chiama Alfio Marchini. E poi vediamo nel taglio basso. Si allungano i tempi per accontentare i magistrati che non si accontentano. Accordo PD. Nuovo centrodestra. Sulla prescrizione. La solita buffonata. Andiamo avanti ancora il manifesto. Bombe sull'ospedale. 30 morti in Libia. No truppe. Solo incursioni. Dice Gentiloni. Tensione tra Haftar e Sarrai. In centropagina la fotonotizia lavoro sporco. Il governo francese incendia il paese con un job act che solleva da settimane la protesta di studenti e sindacati. Quarta giornata di mobilitazione. Ieri mezzo milione in piazza. Scontri fermi e molti feriti tra poliziotti e manifestanti. E poi vediamo le notizie riportate poi all'interno. Sicurezza. Si muore sempre di più sul lavoro. La serrata nazionale dei cantieri edili. E ancora la marcia dei giornalisti. Egitto Italia. Una petizione per Regeni. E ancora scontri in Venezuela. arresti e saccheggi contro la cura energetica del governo Maduro. Il mattino appalti e clan di Blitz al Viminale. Nel mirino dei PM. Dieci telefonate tra Graziano e l'imprenditore Zagaria. Vediamo ancora Renzi contro le mazzette regole più dure dei Luca. Ma sull'abuso d'ufficio sbagli. Il processo d'appello. Qua nessuno è fesso. Riportato in dialetto. 27 anni a Schettino. E il caso Ciro. Chi tollera le scritte della vergogna? Questo lo striscione appunto davanti al Colosseo. Ed ora il messaggero. Vediamo che apre con la politica. Berlusconi punta su Marchini. Forza Italia era la prima scelta caduta per i veti dei alleati. Bertolaso si ritira. Sto in panchina. L'imprenditore gesto coraggioso. Storace verso l'appoggio Meloni e Salvini invece all'attacco. Vediamo ancora Fisco. Si cambia. Caccia alle grandi evasioni. No. Alle somme esigue. Ancora la fotonotizia. Vediamo in Italia. Iadi in Italia quattro arresti. Obiettivo Vaticano. Poi vedremo meglio questa notizia sul messaggero. Intanto passiamo alla Repubblica. Berlusconi sceglie Marchini. Salvini ora basta. Alleanze. Roma-Bertolaso rinuncia alla corsa. I sondaggi. La partita si è riaperta. Più grave la corruzione dei politici. Mattarella un patto per fermarla. Prescrizione. La frenata del nuovo centrodestra. Altri appalti. Sospetti a Napoli. E poi il terrorismo lo vediamo in foto. Questo è il campione appunto di kickboxing tra gli arrestati. La banda dei kickboxer voleva colpire il Vaticano. Sei arresti in Lombardia. Ed ora il tempo. Vediamo il quotidiano indipendente che apre. Attacchiamo il Vaticano e la sede di Israele. L'operazione antiterrorismo scoperta a cellula Isis voleva colpire Roma. Questo in Lombardia. E poi il Campidoglio. L'ex capo della protezione civile si ritira. La zampata del capo. Forza Italia sosterrà. Marchini, Meloni e Salvini accusano. È un favore a Renzi. Berto Lascio. Questo il titolo. Poi ancora fisco e televisione. Canonerà i coppie gay come coniugi. Ancora la scuola nel caos. Al concorsone arrivano pure i carabinieri. E il delitto di mentana. Se liberano i killer di papà li ammazzo io. La ricerca in basso. Il rosmarino srisveglia la memoria. Un'università inglese ha studiato 150 persone con più di 65 anni. L'unità. Vediamo che apre con il titolo. Il Walzer di Vienna. Passo indietro dell'Austria. Ma contro il muro al Brennero. C'è anche l'ONU. E xenofobia. Biancher preoccupato per la deriva dell'Unione Europea. Vedrà Renzi. Il Papa. Accogliere i rifugiati. E poi la fotonotizia. Direzione sud. Dopo la campania. Patti con Calabria. Sicilia e Sardegna. E poi ancora Mattarella. Se politici e giudici litigano. Fanno un regalo ai ladri. Ed ora. Torniamo al messaggero. Quindi vediamo bene la prima pagina. E poi qualche notizia. All'interno appunto. Sempre con le notizie nazionali. E dal mondo. Quindi in prima pagina abbiamo visto che apre con Berlusconi punta su Marchini. Poi ancora l'intervista al leader di Forza Italia che dichiara così i moderati governeranno Roma. Altro che Renzi e patto del Nazareno. E poi abbiamo visto la fotonotizia. Ancora. Fisco si cambia. Caccia le grandi evasioni. No. Alle somme esigue. L'agenzia delle entrate. Meno studi di settore. Più tolleranza per gli errori dei contribuenti. E oggi il decreto. Banche sale la soglia per gli indennizi. E poi l'appello in basso. Il valle chiuso ferita che Roma non merita. Lo dichiara Nicola Piovani. All'interno vediamo in primo piano quindi la politica svolta a Forza Italia. La scelta è Marchini. Bertolaso rinuncia. Ira di Meloni e Lega. Nel taglio basso l'ingegnere è il patto con l'ex premier. O carta bianca. Guido sarà in squadra. Ancora così a Roma i moderati torneranno a governare. L'intervista a Silvio Berlusconi. I sondaggi dicono che solo Marchini è in grado di vincere al ballottaggio. È una scelta che certo non piacerà a Renzi. Altro che patto del Nazareno. Il retroscena. La corsa per le politiche solo all'inizio. Resa dei conti con la destra e il carroccio. E ancora Capitale e Verdini. No di PD. Renzi no al polo di centro. Forza Italia schierata con Marchini. Più complicato per i democrat pescare. Voti tra i moderati. Lotti e Guerini incontrano oggi i verdiniani. Rosato vediamo tutti. Non soltanto Dennis. Ed ancora in Brennero. Vienna frena. Non ci saranno muri. Questo è il caso. Duro incontro. Alfano Sopca per ora evitata la rottura e la chiusura del valico. Il titolare del Viminale. L'Italia non si fa spaventare da un giubbotto. Poi la tregua. E nel taglio basso vediamo il reportage. La marcia sul sentiero 12 vicino alla confine. Così i migranti beffano i poliziotti austriaci. E poi ad Aleppo morto l'ultimo pediatra. La strage all'ospedale dei bambini. Decine di morti tra cui donne e bambini. E tra le vittime anche un pediatra. L'ultimo appunto che operava nella parte orientale di Aleppo. E sempre in primo piano l'inchiesta sgominata a cellula iadista. Volevano colpire a Roma quattro arresti tra Lombardia e Piemonte. Nel mirino Vaticano è ambasciata di Israele. Due ricercati. Il viminale minaccia seria. E i bambini reclutati esaltano il martirio. Ancora le carte. Ascolta lo sceicco. Metti la cintura ed esplodi gridando. Alla è grande. Il pugile aveva ricevuto. L'investitura intercettate. Telefonate e chat con Whatsapp. Andiamo ancora avanti. Torniamo quindi alla giustizia. Mattarella che bacchetta PM politici. Alleanza contro la corruzione. Basta conflitti tra le istituzioni. Generano solo sfiducia. Renzi regole più dure. Ma è sbagliato sparare nel mucchio. Il capo dello Stato. L'applicazione della legge non è una mera operazione meccanica. E lo scenario prescrizione. I centristi. No a tempi troppo lunghi. Si cerca l'intesa con il PD. Al Senato la riforma reinserita nel testo sul processo penale. E intanto il nuovo centro-destra è pronto a dare battaglia. Quando il DDL sarà portato in aula. Orlando continua a mediare. Appalti campani. L'inchiesta alla finanza alviminale. Le indagini sul PD regionale puntano a ricostruire la gestione del restauro di Palazzo Teti a Santa Maria Capo Avetere. Una decina di telefonate tra il DEM Graziano e l'imprenditore Zagari. A ridosso del voto per le elezioni regionali del 2015. Presunta tangente da 70 mila euro. I finanzieri prendono i documenti al Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Il caso Casorina. L'Agicom richiama la RAI. Vespa si difende. Andiamo ancora avanti. Sempre in primo piano. Il fisco sarà meno invasivo. Nel mirino i grandi evasori. La svolta, la circolare delle entrate con le priorità basta interventi sui piccoli errori formali. Massima attenzione sulla lotta alle frodi. Anche internazionali nasce un nuovo ufficio. E vediamo ancora avanti le pensioni. I dubbi sull'età possibile calo automatico. la soglia del ritiro legata alla speranza di vita che per la prima volta è iniziato a scendere. Già nel 2019 potrebbe andare sotto gli attuali 66 anni e 7 mesi. Ma le norme non sono ancora chiare. Vediamo Brambilla. Itinerari previdenziali. È sicuro l'uscita va anticipata. Damiano del PD ha dichiarato rivedere subito le regole. E ancora vediamo dal mondo il caso Germania Welfare a rischio. Per chi viene dai paesi UE, progetto di legge per porre un limite ai sussidi. Colpiti anche 600 mila italiani. Con le nuove regole potrebbero servire fino a 5 anni per accedere ai benefici. E poi gli scontri in Francia. Feriti 28 poliziotti. Tre sono gravi. Proteste per la legge sul lavoro. E guerra a Parigi. Ed ora tra le cronache scuola via al concorso tra polemiche e liti. Arrivano i carabinieri. Primo giorno di prove. 1912 gli aspiranti prof di storia dell'arte. Liuteria tecniche agrarie. Tante contestazioni. Nessuna irregolarità. Il candidato insegno da 16 anni. I miei allunni hanno fatto carriera. Ora spero nel posto. Ed ancora vediamo Vaticano. Scandalo case. Un buco di 700 mila euro. Immobili vuoti o non pagati. Impassivo il patrimonio della Basilica di San Pietro. Gestione approssimativa all'insaputa di Papa Francesco. 300 i fabbricati di pregio. Una ottantina sono sfitte. Molte altre occupate da inquilini morosi. Erano state donate per aiutare la Chiesa e i poveri. Ed ancora ora vediamo. Avanti la pagina dedicata all'economia. Il provvedimento. Banche quindi soglie più alte per gli indennizi. Oggi il decreto va in CDM appunto. Si lavora per innalzare a 70-100 mila euro il tetto dell'investimento e a 30 mila il reddito per il rimborso integrale. Palazzo Chigi preme per trovare il modo di far saltare la data spartiacque appunto che lascerebbe fuori 2 mila risparmiatori di Etruria. Nel sommario vediamo nel decreto anche le nuove norme per semplificare le procedure di fallimento e recupero crediti. Il bilancio. Infine Banca Italia dai conti 3,2 miliardi allo Stato. Scende il valore di vendita delle quattro banche salvate. Spuntano oneri in più per circa 400 milioni. Possibile anche un incremento del contributo annuale degli istituti diretto al fondo di risoluzione. Ed ora ci fermiamo con la rassegna stampa per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Giovanni buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni quali aggiornamenti per oggi e per questo weekend? Allora la situazione attuale è caratterizzata come avevamo annunciato nella giornata di ieri dal passaggio di un corpo nuvoloso proveniente dal Mediterraneo occidentale che ha favorito un peggioramento sulla nostra regione. Nelle prossime ore continueremo ad essere interessati da una diffusa copertura nuvolosa che soprattutto lungo la fascia costiera e sulle zone collinari potrà dar luogo a delle residui precipitazioni. Però dalla tarda mattinata sono previste delle schiarite via via sempre più ampie perché questo sistema nuvoloso si sposterà verso Levante e quindi favorirà un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Anche se non è da escludere nel corso del pomeriggio la possibilità di formazioni nuvolose sulle zone montuose sul settore occidentale localmente associate a dei rovesci, dei rovesci che però tenderanno poi ad attenuarsi in serata e in nottata. Andrà decisamente meglio nella giornata di sabato, anche se ovviamente nel pomeriggio potrebbero formarsi con siti e nuvolamenti sulle zone montuose sul settore occidentale localmente associate a delle precipitazioni ma tenderanno poi ad attenuarsi in serata e in nottata. Sarà un miglioramento Elisa temporaneo perché da domenica assisteremo a un nuovo deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche a causa dell'arrivo di una perturbazione proveniente dalle isole britanniche che entrerà dalla valle del Rodona e favorirà la formazione di una vasta circolazione depressionaria alla quale poi sarà associata una fase di maltempo che coinvolgerà anche la nostra regione. Quindi tempo in peggioramento soprattutto dalla tarda mattinata nel corso del pomeriggio e della giornata di domenica, peggioramento che poi continuerà a manifestarsi anche nelle 36 ore successive, quindi sia nella giornata di lunedì quando avremo fenomeni più intensi e persistenti sulla nostra regione, in particolar modo sul versante orientale, torneranno temporali, piogge temporali, ma anche la neve sui nostri rilievi al di sopra dei 1.400-1.600 metri. Anche poi nella giornata di martedì, soprattutto nella prima parte della giornata di martedì, continueremo ad essere interessati dai fenomeni, almeno questo è quello che è meglio osservando gli ultimi aggiornamenti, ma insomma poi di questa situazione così particolare ne riparleremo magari nel prossimo aggiornamento Elisa. Bene, grazie Giovanni, buona giornata e buon lavoro a te. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E come sempre ricordo che oltre al sito internet di Abruzzo Meteo potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo oppure il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma, potete così postare commenti, porre domande e quindi essere sempre aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria, tra poco. Eccoci rientrati alla seconda parte di Mattino 6, passiamo alle notizie regionali con il centro, vediamo le prime quattro pagine, la prima pagina dedicata alla provincia di Pescara, agenzia entrate, c'è un indagato, Pescara presunti favori, la finanza sequestra il computer. Al funzionario in centro pagina, la guardia costiera Acepagatti e Rosciano, a ca sott'accusa mare inquinato, chiusi due scarichi irregolari. E tra le crona che vediamo in via Battisti lo sfrattano e minaccia di uccidersi. E poi l'appello di Cardelli, ecco il ladro, aiutatemi a rintracciarlo. A Montesilvano, tari aumenti per gli hotel dei profughi. E in basso vediamo la bagarra in consiglio e spunta alla lotteria. Ora passiamo alla prima pagina, invece dedicata alla provincia di Chieti, Lanciano e Vasto. Vediamo in apertura. Apre con Ateneo, giudice accusa del vecchio Chieti, imputato di violazione della privacy di 60 dipendenti. In centro pagina poi Vasto, macabra sorpresa a Punta d'Erci, spuntano Teschi dalla spiaggia della riserva. E tra le crona che muore a Chieti il papà dell'organetto, addio di Leonardo e ancora furto a San Martino. Gang assalta il bancomat delle poste. E in Lanciano, invece, Sasi, la raffica di promozioni fa arrabbiare il caso, appunto si parla del caso di Sasi. Ed ora, invece, la prima pagina, vediamo, dedicata alla provincia di Teramo. In apertura, banda, spacca le vetrine in centro. Teramo vandalinazione in via Delphi con negozi di scarpe nel Mirino. E poi, in centro pagina, il presidente della Corte Costituzionale in Ateneo, Grossi, lezione di ottimismo, si può ripartire. Il presidente sarà ospite anche oggi all'Ateneo. E tra le cronache, invece, è smascherato il truffatore degli asfalti dalla polizia. In Teramo, sempre in Teramo, licenziato un dirigente della Team, la grana rifiuti. Ed ancora, in Pineto, che dice sì all'imposta di soggiorno. La Giunta, quindi, ha deciso che sarà introdotta dal 2017. Ed ora, l'ultima prima pagina, quella dedicata all'Aquila, Avezzano e Sulmona. In apertura, dissesto, Cialente accusa i dirigenti. L'Aquila, il sindaco, scrive alla procura. Tutta colpa loro e il bilancio salta. In centro pagina, l'Istituto Cotugno, cerimonia a Pianciano. Studenti premiati per il giornalino I Portici. E tra le cronache, vediamo, Beharz dovrà occuparsi dei profughi. L'ex presidente, ed ancora in Avezzano, arriva il menù per i pazienti musulmani in ospedale. Arrivisondoli i falsi residenti per evadere le imposte. Ed ora, passiamo, invece, al quotidiano della provincia di Teramo. Vediamo la città, vediamo in apertura cosa riporta la città. Eccoci in prima pagina. L'irlandese Allanas era un truffatore, girava tra aziende e imprenditori teramani, proponendo affari con gli asfalti, beccato dalla polizia. In centro pagina, Teramo Comics, dal 6 all'8 maggio, la fiera apre in Ateneo, l'università a Fumetti. E poi ancora a Cirsu, i sindaci corrono ai ripari, riunione in regione per evitare la chiusura del polo. E ancora in prima pagina, Paolo Grossi a Teramo, il presidente della consulta, un messaggio di speranza per i giovani. Entriamo all'interno della città, vediamo la pagina dedicata alla regione. Pescara, l'aeroporto d'Abruzzo e la deputata ostacolo, battibecco a tinte accese tra D'Alfonso e Grillini sul destino dello scalo e l'interrogazione al Parlamento UE. Interrogazione, l'europarlamentare aveva chiesto l'UMI sulla gestione dei finanziamenti da parte di Regione e Saga. Ancora avanti, la truffa degli asfalti a Teramo irlandese si spacciava per dipendente Anas. Proponeva affari a ditte privati, poi cercava di estorcere somme più elevate, denunciato dalla polizia. Vediamo ancora i sequestri, sequestrata la Clio, bianca del trentenne irlandese, dotata anche di lampeggiante e falsi stemmi di Anas e società autostrade. E l'evento, domenica si corre la trentasettesima edizione della Maratonina, presentata la manifestazione sportiva cittadina. Quest'anno niente corso a causa dei lavori di restyling. E ancora, Ciac si gira a Teramo, Dodo assente in maggioranza, la crisi in comune va avanti tra formalismi e tentativi di ricomporre sul bilancio. Oggi parlerà il sindaco Brucchi. Ed ancora, vediamo TEM, licenziamento bis per liberatore. Nella foto, l'ingegnere Aquilano, ex vice direttore tecnico della TEM, allontanato 15 mesi dopo il reintegro dal precedente allontanamento. Le contestazioni richiamo nel mese di settembre, poi le lettere di contestazione, CDA compatto nella decisione di licenziarlo. E l'incontro sindacale rinviata di una settimana alla procedura di mobilità sui 36 esuberi, sempre sulla Teramo Ambiente. E poi l'evento, evento green a Parco Giochi alla Necropoli. E Parco Giochi alla Necropoli, nuove energie e comune lanciano il hashtag Green Day. Il 7 maggio, bimbi in bici alla scoperta delle aree archeologiche. L'assessore di Stefano annuncia che la TEM acquisterà un parco in plastica riciclata per Ponte Messato. E quartieri erbace e degrado al Parco Giochi di San Benedetto. Il comitato chiede un intervento immediato del comune per ripristinare i luoghi. E poi il lutto, nel taglio basso, si è spento Giovanni Lombardi, era membro del gruppo dei Per Davvero. Ancora avanti il Pascal Comi a scuola di rifiuti zero, l'istituto tecnico Teramano a Lucca, per fare tesoro delle nuove pratiche ed esperienze in materia di smaltimento. E poi la viabilità, varate le tariffe orarie del parcheggio stazione, strisce blu dal 1 giugno. Ed ancora vediamo la pagina dedicata alle notizie provinciali. Incontro in Regione per evitare la chiusura del CIR su il sindaco di Notaresco chiede al CSA di sedersi attorno al tavolo per salvare il polo tecnologico. Non è escluso che anche da Via Milli venga convocato un tavolo per evitare l'ingresso dei privati. Elezioni militanti del Movimento 5 Stelle spaccati su Patrizia Terzilli, la sua è una lista civetta. Il gruppo ufficiale del MIP invita a disconoscere i grillini che vogliono formare la lista. Loro non sono riconosciuti, succede a Bellante. E poi ancora Teramo dissesto da Mareggiate in arrivo a 600 mila euro per il ripascimento. Tra gli otto comuni coinvolti nel finanziamento della Regione ci sono anche Martinsicuro, Pineto e Silvi. Ed ancora vediamo maggioranza piccioni in stato confusionale ad Albadriatica. Lungomare, eventi ed espropi del Ruzzo, le minoranze fanno tana alle spaccature interne. Eventi estivi, il sindaco si trincera sul carnevale estivo che sulla festa democratica negata al PD di Viviani. E cronaca a Martinsicuro, ragazza ubriaca si schianta contro la rotatoria denunciata a Sant'Egidio questa mattina i funerali di Vito Nardinocchi. E poi a Corropoli, Piper precipitato, l'omicidio colposo ormai è prescritto. Il processo per la morte del giovane pilota alle battute finali chiesta la soluzione. A Giulianova c'è chi non paga all'Atari da sei mesi, aumenti dovuti all'inadempienza di troppi utenti e all'immobilismo della riscossione. Incontrare grosse difficoltà nella riscossione è pronto un bando per individuare un privato. E tra le cronache vediamo trovati con 50 grammi d'erba, rom in manette a Giulianova e sempre a Giulianova. Il Don Antonio è il miglior campeggio per le famiglie. Il concorso Piazza Marà, i nuovi alberi pagati dal sindaco e dall'assessore. Ed ancora Parco Franchi, anche la Lega scende in piazza contro il chiosco, pronto un gazebo per dare via alla battaglia contro la cementificazione. Roseto al voto, vediamo disabili, due casi non sono paragonabili. Recchiuti difende la scelta di pubblicizzare il rinnovo del trasporto e attacca di nuovo la Ciancaione. Caduta di stile per Antonio Cerasi e l'amministrazione a strumentalizzare facendosi portavoce del ragazzo disabile. In basso insulti sessisti, il sindaco doveva scusarsi in consiglio, la Ginobile rompe il silenzio. Intanto il fatto rosetano citato anche su Radio 24. E porto sul vomano, vediamo l'incontro pavone, parlò solo degli argini. I pescatori si sentono strumentalizzati dal sindaco, mai parlato di ampliamento e nuova. Darsena a Roseto sempre, Pio Rapagnà torna a chiedere il rimborso per la Tarsu non dovuta. Nel taglio basso, ancora Roseto, i ragazzi del liceo Saffo brillano nelle competizioni studentesche. Sfilza di successi per gli studenti, da le gare di greco a quelle di matematica, passando per lo sport e le lingue straniere. Ed ora la pagina dedicata all'economia. Vediamo, Surfmed in Teramo vince premio Design. Il Mecca Studio si aggiudica il casting Open Design Italia 2016 con la sua tavola innovativa. E agricoltura gelata di aprile, devasta colture, si mobilita la regione nel taglio basso. Emologia, colline terramane al DOCG Wine Experience di Padova. Domenica 8 maggio, vini abruzzesi a confronto con i sommelier dell'AIS all'Abbazia di Praglia. Ed ora torniamo al messaggero. Vediamo la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo, che apre con Cialente, pronto a revocare le deleghe a Trifuoggi. Il vice verso le civiche, il sindaco Lo Strunca, ha visioni distorte. Ed ancora la storia, vediamo la Cassazione smonta all'accusa di sfruttamento per i Dimeo a Sulmona. A Pescara sempre scarichi abusivi, emergenza infinita, nuovi veleni nel fiume Pescara, doppio sequestro della Capitaneria a Rosciano e Cepagatti. L'appello svuotare le vasche di deposito, dubbi anche sugli affluenti Aterno e Sagittario. E poi ancora vediamo la fotonotizia vasto, Rospo Mare, tre indagati per l'incidente 2013 nel taglio basso. Crisi a Teramo, Brucchi adesso non ha più i numeri. Entriamo all'interno, vediamo Finanza, Popolare Bari, Timori per la nuova ondata di Esuberi. Tercas e Caripe raccolta in linea con i trend negativi del mercato, Iacobini, i marchi storici abruzzesi restano sul territorio, ha dichiarato. E poi i scioperi tua ad Alessandro e i sindacati, serili lotte di retroguardia. La battaglia di SOS utenti, la vai per cancelli di segnalazione di sofferenza, i grillini poi verso il voto di Maio oggi in tour nel Chietino. La grande selezione, lunedì parte il concorso per docenti, ci provo a casa mia, ho più chance. Margherita, 30 anni da Ortona, pronta per una lunga serie di test. E poi Renzi, più di un miliardo in campo per l'Aquila. Pagina dedicata a Pescara, vediamo che apre con il mare malato, fogne pirata, una raffica di sequestri. Nuovo blitz della guardia costiera a Cepagatti e Rosciano, chiuse per mancanza di manutenzione, due vasche di deposito. Operazione fotocopia dopo manoppello, eletto manoppello, espoltore, lotta senza quartiere, agli scarichi abusivi o difettosi. E alla vigilia della stagione balneare, l'amministrazione comunale di Pescara ha presentato le strategie, ieri appunto la presentazione, strategie già in atto appunto per ridurre il tratto di costa in cui ci sarà il divieto di balneazione. Su questo articolo vediamo il contributo video di Paolo Renzetti. Nel vecchio oggi avete voluto lanciare anche un messaggio rassicurante ai pescaresi, ai turisti, perché le condizioni del mare a Pescara stanno migliorando. Lo dicono le analisi? Assolutamente sì. Vogliamo insieme con la categoria, con gli operatori, riportare le cose nel giusto alveo, che non è quello del fiume che ha le sue criticità, ma nell'alveo della correttezza e della realtà. Abbiamo lavorato incessantemente in tutti questi mesi per ridurre e per eliminare quelli che erano gli elementi di criticità, di inquinamento del fiume. Ne abbiamo tolti tanti. Le prime analisi, quelle del 18 aprile, confermano questo dato, e cioè una qualità delle acque buona dappertutto, con un'unica criticità che speriamo di risolvere con gli ultimi interventi che stiamo portando avanti. Il DK15 appena la sovrintendenza, con la quale ha avuto ieri e l'altro ieri colloqui sia telefonici che anche personali, appena ci darà l'autorizzazione paesaggistica potranno riprendere i lavori e credo che possiamo stare nel cronoprogramma che ci siamo dati con l'ACA. Fine aprile, inizi di maggio, diciamo la prima settimana di maggio, attivazione del DK15 per quanto riguarda la Golena Nord e poi entro la fine di maggio attivazione del DK15 per quanto riguarda la Golena Sud. Quindi non dovremmo entrare oltre il cronoprogramma che ci eravamo dati e che andrà ad influire positivamente anche nelle successive analisi che verranno fatte. Ed ora la pagina dedicata all'Aquila. Cialente, stronca, trifuoggi, visione politica distorta, giustizia sociale. Per noi non è andare dietro ai pruriti di una borghesia inutile e residuale. Trasparenza abbiamo dimostrato all'ex PM di non avere nulla da nascondere. Il cronoprogramma vediamo sotto servizi, entro metà maggio lavori conclusi in via 20 settembre e poi il consiglio sul bilancio, amministrazione sotto scacco. Il bilancio in previsione arriva in aula ma resta l'ostacolo insormortabile di un buco da 24 milioni di euro. Anche su questo articolo vediamo il contributo video di Filippo Tronca. Corsa contro il tempo per l'approvazione del bilancio del Comune dell'Aquila. Una corsa allastricata da ostacoli o meglio da una voragine quantificata in ben 24 milioni di euro che avrebbe dovuto coprire anche quest'anno il Governo come soccorso esterno per far fronte alla minore entrata e le maggiori spese dovute al difficile post-terremoto. Il destino del Comune resta dunque appeso ad un emendamento annunciato dalla senatrice Stefania Pezzopane ma che non vede ancora la luce. Una cosa è certa e confermata nel Consiglio Comunale di oggi. Entro il termine del 30 aprile non si approverà né il bilancio di previsione né il bilancio consuntivo. Ci sarà dunque la diffide del prefetto Francesco Alecci con l'ultimato un fissato al 23 maggio altrimenti il Consiglio verrà sciolto. Una sciagura per la maggioranza che non nasconde la gravità della situazione. L'occasione è buona per mandare a casa il sindaco Massimo Cialente per l'opposizione pronta a fare muro contro ogni ipotesi di approvazione di un bilancio tecnico per poi intervenire dopo maggio con variazioni di bilancio. Il Governo, contrariamente a quanto fatto dal 2009 al 2015 che ha stanziato risorse per il mancato pagamento essendo edifici inagibili della Tari, della Tarsu, della Tase quest'anno non ha stanziato un centesimo né nella legge di stabilità né nelle proroghe ora è in corso un decreto, sembra, tutto sembra che dovrebbe essere convertito entro il 23 maggio e quindi speriamo che in quel decreto ci sono stati gli emendamenti per far sì che l'Aquila abbia le giuste risorse. Se non arrivassero questi soldi? Sarebbe un dramma, un problema grande perché il Comune dell'Aquila ha una limitatissima capacità in positivo ovviamente avendo il parimonio immobiliare in gran parte distrutto. Sono cinque anni che questa litania si ripete ormai in maniera stanca e senza nessun costrutto. Tutto questo era stato ampiamente anticipato mesi e mesi fa ma naturalmente questa amministrazione eccellente in primis come al solito è stata sordo oggi ascoltiamo una richiesta di aiuto e corresponsabilità da parte di una maggioranza ormai arrivata alla conclusione, al crepuscolo grazie a Dio della propria esperienza politica ma ciò che rimane purtroppo è il dramma che graverà sui cittadini l'aumento delle tasse, la tari e le altre l'incapacità di saper gestire la cosa pubblica di questa amministrazione. Ancora all'Aquila il blitz maxi sequestro in un supermercato nel discount di Bazzano Eurodis scoperti dalla finanza più di 500 kg di insaccati e formaggi mal conservati oltre a problemi di tracciabilità trovati nel magazzino altri 400 kg di alimenti deteriorati. e vediamo nel taglio basso la ricostruzione Fondazione Carispa via ai lavori alla sede il processo violenza sul ragazzino condanna a 4 anni per il 55enne che venne arrestato dopo l'episodio avvenuto al parco del castello. Passiamo adesso alla prima pagina dedicata a Chieti vediamo la banda della fiamma ossidrica torna a colpire, posta mattassaltato trovate tracce di sangue di un bandito fuga con un bottino di 30.000 euro forse le banconote sono macchiate i residenti non ci siamo accorti di nulla e il Consiglio di Stato, tecnici ASL il concorso irregolare, non c'è alcuna incompatibilità l'evento Festa del Maio, balli e canti nel centro storico e ancora la sentenza diffamazione privacy violata per del vecchio imputazione coatta e petrolio in mare a vasto vediamo si indaga per disastro colposo nel 2013 ci fu uno sversamento nell'area di Rospomare inchiesta a Larino sotto accusa tre dirigenti dell'Edison la società tre giorni dopo l'incidente smentì la presenza di Greggio macchia composta da terra ed erbe fluviali e pagina dedicata a Teramo vediamo Brucchi non ha più i numeri Chaos Team via Liberatore il gruppo Teramo soprattutto diserta la riunione di maggioranza sul bilancio dopo le perdite di consiglieri e assessori il sindaco sotto la soglia di sopravvivenza il caro Sosta vediamo zone blu in stazione oggi le nuove tariffe e la storia sono di autostrade per l'Italia beccato il truffatore degli asfalti la denuncia oncologia il collasso il primario pochi posti letto organici all'osso a Giulianova vediamo parte recupero dell'evasione si parla di Tari appunto alla vigilia del consiglio che discuterà l'aumento di Tari e Imo il comune stima in 4,7 milioni la cifra delle imposte non riscosse conclusi finalmente i controlli effettuati dall'ufficio Tiributi adesso si procederà alla gara per appaltare la riscossione e torniamo velocemente al centro vediamo l'edizione riprendiamo l'edizione del centro dedicata a Pescara vediamo all'interno le notizie appunto dedicate alla regione la prima pagina è dedicata all'Abruzzo che apre con l'edilizia pericolosa troppi morti sul lavoro prefetti servono controlli i segretari di Fenelwil, Filca, Cisle e le filea della CGL chiedono un impegno forte per far rispettare le norme di sicurezza e anche i contratti nei cantieri lezione di ottimismo di Grossi solo così possiamo ripartire il presidente della Corte Costituzionale all'Università di Teramo resto un professore e credo in una nuova civiltà giuridica ha dichiarato addestramento cani in parchi e riserve ritirate quella legge se ne è parlato a Pescara vediamo ancora all'interno la pagina appunto dedicata a Pescara la prima pagina che apre con l'inchiesta agenzia entrata e funzionario indagato blitz della finanza nell'ufficio di Imparato sequestrati il computer e la pratica di una società sotto accertamento fiscale coinvolto il numero 2 della direzione pescarese assalto sulla 14 la banda aveva un estintore abbandonato davanti al portavalori doveva servire a salvare il bottino dopo l'incendio del mezzo entriamo all'interno vediamo sempre nella pescarese minaccia di uccidersi dopo lo sfratto via Battisti all'arrivo dell'ufficiale giudiziario scavalca la balaustra al settimo piano poi ci ripensa e viene portato in psichiatria in breve donna ferita dopo lo scontro nella galleria ed ancora scrive a Mattarella per un lavoro inutile inviare curriculum e rivolgersi alle agenzie interinali mi aiuti il Quirinale e in un garage di via Napoli in Fiamme una vecchia Fiat Ritmo ed ancora su perenalotto da 167 mila euro in 40 vincono al caffè ideale il comune vuole tagliare 11 pini in Viale Regina Margherita non ci sono i soldi per tentare di salvare gli alberi ancora la battaglia contro l'inquinamento scarichi nel Nora sequestrati due impianti la capitaneria scopre a Cepagatti a Rosciano delle fosse che sversavano liquami indagati due funzionari dell'ACA balneabilità obiettivo 16 maggio come abbiamo visto prima nel servizio sindaco e vice sindaco abbiamo lavorato i prossimi prelievi Arta ancora meglio ed ancora ho ripreso il ladro aiutatemi ad acciuffarlo a Pescara a Cardelli del Nettuno lancia un appello via Facebook dopo il furto di un computer responsabile individuato dalle telecamere un furto anche a Lido Beach e paura in municipio si sente male durante il lavoro soccorso dipendente comunale ancora vediamo in Pescara Anduccio in lacrime un incidente agricolo mi portò via papà la drammatica testimonianza del cabarettista al convegno di Confindustria sulla sicurezza sul lavoro appunto e il primo maggio in piazza Salotto con Carotone ed ora passiamo alla pagina successiva vediamo l'apertura del cantiere via alla rinascita del teatro Michetti lavori affidati a una ditta di Chieti dureranno fino a Natale previsti la demolizione e il rifacimento di galleria e tetto ed ora torniamo al messaggero per vedere la pagina sportiva Abruzzo Sport che titola Pescara divieto di fermata Oddo carica i biancazzurri i playoff non sono ancora al sicuro niente calcoli contro Lentella per i tre punti ora l'obiettivo minimo evitare il turno preliminare il mio futuro è qui sto già pensando alla prossima stagione vediamo appunto il tecnico in foto Massimo Oddo che chiede al Pescara di mettere subito al sicuro i playoff ieri la conferenza Sampa vediamo appunto cosa ha detto no sta bene parte con noi è tutto sotto controllo oggi si è allenato ha fatto una parte di allenamento quella che interessava la parte tattica poi ha continuato differenziato ma sta bene non dobbiamo farci influenzare dall'avversario ma dobbiamo badare a raccogliere il maggior numero di possibili punti partita dopo partita a prescindere dall'avversario a prescindere dal giocare in caso fuori quando dicevamo che dalle difficoltà nascono delle opportunità l'importante è che in queste difficoltà sono nate grandissime opportunità cioè aver capito che Mandragora è un giocatore che può fare anche il difensore centrale aver capito che Vitturini si è messo a livello dei titolarissimi e quindi l'importante è che quando tu vai a giocare i playoff e io noi li abbiamo fatti l'anno scorso quindi un minimo di esperienza ce l'abbiamo capisci che ogni tre giorni non è semplice più gente è a disposizione su cui puoi fare affidamento è meglio è nel calcio di certo e di sicuro non c'è nulla perché se il prossimo anno arriva il match e se ne mi chiede io probabilmente gli direi di sì quindi non è che posso nascondermi dietro a queste cose qui è ovvio che una di quelle certezze che ho è che ho un contratto poi sicuramente questo è un momento in cui fantastico con a volte con un'eventuale formazione del prossimo anno ma questa è la normalità come come poi è normale che nel momento in cui finirà qui la stagione dovrò parlare con col presidente col direttore per cercare di capire quali sono i programmi per cercare di capire che cosa si vuole fare in base a quello fare un bel progetto per il futuro ed ancora vediamo Benali l'occasione per il riscatto il libico titolare ma non è chiaro chi gli farà posto il camps autorizza la trasferta dei tifosi vediamo il calcio a 5 tre abruzzesi lanciano l'assalto allo scudetto al via i playoff oggi apre l'acqua e sapone ospitando il caos domani toccherà al pescara sul campo della luparense ed ora la lega pro vediamo modica studia l'aquila anti lucchese mentre per il teramo cecchini teramo vorrei restare anche su questo articolo vediamo il contributo video la mia stagione diciamo sono stati degli alti e bassi perché comunque il posto da titolare non ce l'ho sempre avuto anzi per tutta la prima parte sono state più le volte in cui partivo dalla panchina quindi alti e bassi un po' sicuramente per dei meriti miei magari però è un finale in crescente in cui sono riuscito a trovare più spazio e niente quindi il finale penso sia tutto sommato positivo alla fine questo può risanare una stagione come già detto con alti e bassi il prossimo anno io per contratto devo tornare a Lentella poi lì si vedrà qui sicuramente mi sono trovato molto bene e non mi dispiacerebbe nemmeno tornarci pure sapendo che c'è tanta intenzione di fare un campionato importante però al momento dovrebbe essere la Lentella a prendere decisioni e vedere cosa fare nel futuro noi ora non abbiamo più obiettivi però la partita comunque è importante anche se loro hanno già vinto noi siamo già salvi vogliamo sempre metterci in mostra e fare bella figura quindi cercheremo di impegnarci al massimo e di fare la più bella figura possibile e vincere magari ovviamente l'appuntamento con Mattino 6 termina qui grazie per l'attenzione e buon proseguimento grazie per la visione grazie per la visione